Buonasera e ben ritrovati negli studi di Una Mela al Giorno. Siamo pronti per cominciare questa nostra serata durante la quale come sempre affronteremo temi inerenti alla vostra salute, al vostro benessere e non solo. Abbiamo sperimentato un inverno particolare in cui le temperature fredde e anche piuttosto gradevoli, tiepide, si sono alternate ma ci stiamo intanto preparando alla primavera e come si sa la primavera spesso può portare degli scompensi, ci può indurre a dormire di più, a percepire più stacchezzo, al contrario anche a sentirci più energici a seconda della persona. Ma che cosa in particolare accade alle donne? Sono vittime di uno scompenso ormonale? Possiamo avere delle alterazioni del ciclo mestruale? Lo chiediamo alla nostra prima ospite di questa sera, la dottoressa Maddalena Mallozzi, ginecologa, coordinatrice del centro menopausa della clinica Paideia di Roma. Benvenuta dottoressa Mallozzi. Grazie a voi di avermi invitato, è sempre un piacere. Allora dottoressa, ci stiamo preparando alla primavera, insomma manca davvero poco, ammesso che le temperature poi siano primaverili perché ormai ci si può aspettare davvero di tutto. Ma il cambiamento delle temperature, quindi il cambiamento della stagione, davvero può creare uno scompenso ormonale come spesso noi donne siamo portate, indotti a credere? Sì, la correlazione c'è, nel senso che in generale qualsiasi tipo di stress può comportare alterazioni in primis a livello riproduttivo. È ovvio che quando un corpo deve affrontare un cambiamento di temperature va incontro ad un adattamento, quindi c'è un maggiore impegno da parte dell'organismo a riadattarsi a questa condizione nuova. Non tutti hanno alterazioni, però magari chi ha un corpo che già è impegnato su altri fronti, che ne so, vede le persone allergiche per esempio, ai pollini che durante la primavera ha già lì il sistema immunitario, si impegna. È ovvio che il nostro corpo segue una sorta di legge di spending review. Quando tu hai pochi soldi nel portafoglio cosa fai? Decidi di spenderli dove più è necessario, quindi per le funzioni vitali, per la parte cerebrale, il cuore, i polmoni. È brutto a dirsi, ma quella più inutile o comunque che puoi mettere in step by senza alterare la funzionalità dell'organismo è quello riproduttivo, quindi il primo organo bersaglio ad essere spinto nelle situazioni di maggiore stress sono quasi sempre le ovaie e l'utero. Questo dottore Stamallozzi può accadere a qualunque età? Sì, può accadere a qualunque età, come dicevo prima, nella fascia dell'età fertile i soggetti un po' più a rischio di queste alterazioni sono magari i soggetti che hanno già altre problematiche per cui il corpo appunto deve impegnarsi di più. E poi ci sono le donne che iniziano ad avere i primi cambiamenti parafisiologici, iniziamo ad andamento verso la menopausa, che non è, la menopausa è verso i 50 anni, ma i primi cambiamenti iniziano dai 40. Dai 40 abbiamo questo ovaio che non ce la fa più, non vede l'ora di andare in pensione, inizia ad arrancare, a funzionare a volte bene, a volte male, è ovvio che lì che poi hai uno stress in più è più facile che si stanchi totalmente e abbia più facilmente queste alterazioni di funzionamento con o cicli che molto spesso ritardano nell'arrivare o comunque sono irregolari. Quindi in altre parole diciamo che la primavera da un lato può fungere quasi da campanello di allarme per certi disturbi o anche per qualcosa che come la menopausa potrebbe accadere da qualche anno e quindi può essere anche confondente nel senso che noi possiamo sperimentare un'alterazione del ciclo mestruale, dare la colpa alla primavera e invece poi ritrovarci a scoprire che si tratta di tutt'altro. Sì, è un fattore scatenante, però è anche vero che poi quando il corpo si è adattato, quindi riprende a funzionare bene, se le condizioni che l'hanno comportato non sono così gravi può riprendere la propria funzionalità. Infatti facevo molto il distinguo tra pre-minopausa e menopausa. Ricordate bene donne che la menopausa è quando non si ha il ciclo per almeno un anno, fino a quando non intercorre questo lasso di tempo non vi potete decretare in menopausa perché l'ovaio cerca comunque di funzionare e se il corpo sta bene può partire un'ovulazione quando magari pensavate di aver chiuso i battenti con l'età fertile. Quindi sì, può essere un primo un move, però si può ristabilizzare la situazione a seguire se il corpo lo permette. Parlando invece del periodo dell'età fertile durante il quale, come giustamente le ha detto anche, una ragazza molto giovane, una donna può sperimentare queste alterazioni del ciclo, mestruale durante il cambio stagione. Anche qui però potrebbe non essere effettivamente colpa del cambio stagione, potrebbe essere una coincidenza perché ci sono altre cose, altre cause che possono scatenare un'alterazione o addirittura un'interruzione del ciclo mestruale. Sì, le cause delle irregolarità mestruali possono avere tantissime motivazioni. È ovvio che i fattori scatenanti gli danno il là. La causa più frequente di irregolarità mestruale è la sindrome, per esempio, dell'ovaglio policistico, una sindrome di cui sicuramente avete parlato. Molto spesso appena una ragazzina ha un po' di brufoli e cicli irregolari subito e dice, ah, tu hai la sindrome dell'ovaglio policistico. Non è detto, però è possibile. È una sindrome molto frequente, soprattutto nelle ragazze giovani, perché io faccio sempre un esempio un po' sintetico, però rende l'idea. Dobbiamo partire dal concetto che il nostro ovaio ha tantissimi follicoli, soprattutto da quando noi nasciamo ne abbiamo veramente tantissimi, poi piano piano questi vengono depletti. E l'organismo ne dovrebbe scegliere uno al mese da far maturare, crescere, 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 fino a quando è bello maturo. Allora da lì questo piccolo cellula uovo viene fatta fuori uscire, va nelle tube, sperando che poi viene fecondata nell'utero. Quando si hanno tanti follicoli, questo corpo, soprattutto all'inizio che, diciamo, cerca, si confonde, non capisce più niente, non sa più a chi deve far crescere, li fa crescere tutti, ma facendo crescere tutti i follicoli rischiamo poi che non ne va a maturazione neanche uno. E da lì parte la sindrome dell'ovaglio policistico. Non andando a maturazione per bene uno, questa ovulazione non avviene e da lì nascono i cicli che non arrivano, nascono poi anche scompenzi ormanali, perché l'ovaglio produce ormoni e quindi si può avere appunto quest'acne, quest'insulino resistenza, poi ci sono diverse tipologie di sindrome dell'ovaglio policistico. E questa è quella, parto da questa perché è quella più frequente. Altra motivazione per cui si possono avere i cicli irregolari sono alterazioni di ghiandole endocrine non ginecologiche, ma la tiroide per esempio, che va sempre controllata, almeno con esami del sangue, quando funziona poco, anche quando funziona molto. Un'altra ghiandola invece che noi abbiamo a livello cerebrale che è l'ipofisi perché può produrre un ormone chiamato prolattina che anche questo può andare a incidere sul funzionamento ovarico. Quindi di motivazioni di irregolarità queste sono quelle un pochino più frequenti. Poi ovvio se andiamo verso l'altà dai 40 in poi ci possono essere quelle motivazioni parafisiologiche che abbiamo già menzionato di addormentamento che l'ovaio inizia. Un'altra causa che viene molto sottovalutata e sono i casi poi che a me arrivano perché non riescono a trovare nessuna motivazione di questi cicli irregolari, sono molto subdoli e soprattutto apportano anche molti svantaggi a livello corporeo. Sono i problemi di malassorbimento, cioè noi abbiamo diverse tipologie di problematiche intestinali che sia la semplice intolleranza al lattosio o malattie proprio infiammatorie croniche intestinali che ci portano a non assorbire più correttamente quegli elementi che effettivamente ci servono perché il nostro corpo ha bisogno di tante cose per funzionare bene. E torniamo al discorso di prima della spending review. Se tu non hai abbastanza nutrimento o tutti quegli elementi che possono servire al corpo qual è l'apparato che subito metti stand by? Eccolo lì l'ovaio. E ci risiamo con le irregolarità mestruali. Lo dico perché quasi mai, almeno alla mia osservazione, vengono indagate queste cose o anche la celiachia subclinica. Noi pensiamo molto spesso che una persona celiaca abbia, diciamo, irregolarità intestinali pazzesche, pancia gonfia. No, quelle che ti fregano sono quelle che agiscono in sordina, cioè quelle che danno quell'infiammazione piccola piccola da non portare sintomi, però da portare tutti gli effetti negativi a livello dell'intestino e dell'assorbimento. E anche lì irregolarità. Un'altra motivazione ancora, e questa la menziono con molto piacere perché non se ne parla tanto, ma è un problema molto frequente, sono le amenorree, quindi assenza di ciclo per un periodo molto lungo, da stress. Perché noi dobbiamo considerare che quello che avviene nella nostra mente, nostra mente ha un potere immenso, ha il potere di guarire, ma ha il potere anche di far ammalare. E quindi quando noi subiamo un periodo di stress, si producono tutta una cascata di ormoni, per cui anche lì non è una questione tanto di spending review, ma il corpo che va in allarme, allarme rosso, c'è un problema, andiamo in riserva, e sempre sta riserva dove casca, sempre sulla parte ovarica. Infatti è tipico di quando, allora, se prendiamo in considerazione il periodo menopausa, è tipico, molto frequente, che se sia magari un lutto, un qualcosa che veramente ci devasta psicologicamente, da che l'ovaio magari non funziona proprio bene, smette completamente di funzionare. È parafisiologico, è per quella cascata ormonale di cui ti parlavo. Per quanto riguarda invece l'età fertile, un problema molto frequente che porta a questo sono, a parte le amenorree, quelle delle atlete, che sono un po' dall'ormone dello stress, ma anche dal fatto che spendono talmente troppa energia a livello di attività fisica, che non lo compensano poi con l'alimentazione, il corpo anche lì va a spendere review, dove taglio, ok, togliamo la parte del ciclo mestruale e quindi togliamo, insomma, gli ormoni della parte mestruale. A parte le atlete, ci sono le ragazze che hanno i problemi di anoressia e qui è molto importante perché sono molte più di quanto si pensa e lì si intrecciano le cose perché tu hai che molto spesso l'anoressia è portata da un problema psicologico e lì la parte psicologica ti innesca tutto il meccanismo. Poi hai che c'è un ridotto introito calorico, e torniamo al discorso della spending review, ed è una combinata che comporta però i problemi conseguenziali perché il fatto che non le arriva al ciclo le crea ulteriori problemi e rinasce ancora di più il problema psicologico ed è un vortice verso il basso. E qui è importante far capire alle ragazze che sicuramente c'è sempre bisogno, molto spesso bisogno di un percorso psicologico per capire cosa ha innescato tutto questo, ma hanno bisogno di avere un supporto degli ormoni che loro non più producono perché questi ormoni servono per il benessere del corpo. Il fatto che non ho il ciclo sia una cosa fighissima, non devo mettere l'assorbente tutti i mesi, non ho questo in piccio, ma gli estrogeni ci servono e ci servono in primis per l'osso perché noi andiamo a rischio di osteoporosi, una demineralizzazione precoce delle ossa e l'osteoporosi è difficile da curare, la terapia è molto pesante e osteoporosi significa che tu hai un osso che si sgretola come un gressino, mentre tu sei in piedi ti si rompe, è una cosa molto grave, non se ne accorgono subito subito ma nel passare del tempo, quindi avere quel supporto, non devono aver paura di prendere gli ormoni, ci sono tante pillole, non le pillole, non è vero, ci sono circostanze in cui si può avere una problematica con una pillola e può creare ripienzione, quello che vuoi, però le pillole adesso ce ne sono tantissime, non è vero che fanno ingrassare, è vero che bisogna trovare quella giusta perché ognuno è fatto a modo proprio e bisogna inquadrare qual è la pillola migliore per quella persona, ma assolutamente non è che fa ingrassare, se gonfia vuol dire che c'è qualche intolleranza a qualcosa nella pillola, va cambiata, tutto qua e si ritorna tutto come prima, poi per di più si sta anche una pillola per la pillola, non so se lo sapevi no questa no, ormai c'è un mondo su queste cose, la pillola per la pillola, che è una pillola composta di tutte cose naturali, centella, magnesio, tutte cosine che servono proprio a compensare eventuali piccoli fastiducci che eventualmente la pillola può dare, quindi ragazze non abbiate paura, se c'è bisogno di fare una terapia ormonale mentre fate un percorso psicologico, mentre risolvete tutte quante le altre questioni, non abbiate paura di farle, perché l'importante è solo avere quel tempo di trovare quella giusta per voi che però vi apporta molti molti benefici. Assolutamente, perché poi se parliamo di ragazzi molto giovani, quello che può essere compromesso è anche poi la fertilità e quindi la possibilità futura di avere un figlio perché magari a 14, 15, ma anche 20 anni non ci si pensa, ma poi quando si arriva a volte anche in età avanzata a cercare un figlio e rendersi conto di non poterlo avere perché si hanno dei problemi di infertilità, ecco che magari ritornano a galla, problemi pregressi. Ovviamente tutto questo la dottoressa Mallossi ce l'ha raccontato anche per fare un po' un distingo rispetto a quello che può essere un disturbo del ciclo mestruale nel periodo primaverile che è quello che ci approcciamo a vivere e invece quello che è un disturbo del ciclo mestruale vero e proprio che ha del patologico. Tornando invece all'argomento un po' cardine della nostra intervista di oggi, quindi quando abbiamo un ciclo che si altera o che non viene proprio durante questo periodo della primavera così come può essere magari anche in autunno e quindi parliamo qualcosa credo di non patologico giusto dottoressa? Quindi siamo di fronte a un'anomalia che può essere a volte nemmeno considerata perché passa da sé, ma se volessimo invece aiutarci con degli integratori naturali, con qualcosa che ci può sostenere perché succede spesso che durante la primavera magari abbiamo più sonno, siamo più stanchi, ci sentiamo meno attive, ecco tutto questo può dipendere anche dagli ormoni, ecco come possiamo intervenire eventualmente così giusto per questi due o tre mesi? Sì, hai fatto una domanda giusta ed è un consiglio proprio da tutte le mie pazienti che vogliono cercare di evitare, perché ho bisogno di vedere fino a che punto si può aiutare la situazione, anche perché come ti dicevo dipende dagli altri fattori concomitanti che la persona ha, perché è ovvio che io ho una paziente che ha una predisposizione allergica, è ovvio che devo puntare più sul ripristinare meglio, gestire meglio la situazione allergica. Di base sicuramente aiutano i multivitaminici perché sono la base cardine per dare tutti quegli elementi essenziali che aiutano l'adattamento. Altre cose possono essere delle piante adattogene come per esempio una molto utile che ha tantissime altre proprietà è l'ashwaganda, il ginseng indiano, perché aiutano a non sommatizzare a livello corporeo gli stress esterni oppure il magnesio. Per quanto riguarda invece il discorso più classico e più che altro molto frequente delle allergie, li devono essere ben gestite alla base, quindi o si fanno le opportune terapie o magari terapie desensibilizzanti prima, in maniera tale che il sistema immunitario al momento dello stress acuto non viene sconvolto e quindi non crea poi tutto lo sconvolgimento a livello corporeo. Visto dottoressa Mallozzi che abbiamo fatto un distinguo ben preciso tra quelle che sono le regolarità, chiamiamole così, primaverili di cambio stagione e quelle invece patologiche, qual è che veramente dobbiamo preoccuparti? Cioè quanti mesi devono trascorrere di irregolarità o addirittura di assenza del ciclo mestruale prima di recarci da un ginecologo, da un medico specialista e chiedere aiuto per queste anomalie che abbiamo riscontrato? Generalmente da tre e sei mesi. Se ci sono assenza di ciclo da tre o almeno tre o sei mesi, allora lì bisogna iniziare a fare un pochino di controllo, quello sì. Se invece non c'è proprio assenza e stiamo di fronte semplicemente a un ciclo che arriva un po' in ritardo, quattro o cinque giorni, una settimana o a volte anticipo e molto abbondante queste irregolarità, quando è che vanno studiate? Qui faccio una precisazione, perché c'è tanta confusione sulla regolarità del ciclo. No dottoressa, a me non viene irregolare perché viene ogni 32 giorni. No, guardi, questo è irregolare, perché noi abbiamo l'idea che ci deve venire ogni 28, ogni 30. No, la fascia generalmente è 25-45 giorni, quindi quando rientra in questo range è normale. Anzi, in teoria, i cicli veramente anomali sono quelli che arrivano al di sotto dei 21 giorni. Allora lì bisogna magari una rondine non fa primavera, un episodio non ci crea problema, se ci dovesse essere invece un arrivo diverso del ciclo più volte per almeno due o tre volte, allora lì magari si fanno un po' di accertamenti. Oppure ancora un'altra tipologia di irregolarità è il cambiamento del flusso. Quando è scarso, molto spesso non ci fa preoccupare tanto perché è dovuto magari a una carenza di ferro, agli ormoni che possono cambiare nel tempo, magari a problematiche più di riserva energetica che non di altro. Ci preoccupa un po' di più e vanno fatti accertamenti quando invece diventa troppo abbondante, perché lì invece può nascondere tante altre cose. Assolutamente, ma parlando sempre diciamo di queste irregolarità, le diceva può essere irregolare se il ciclo viene tra i 25 e i 45 giorni, ma deve comunque arrivare con irregolarità, mi spiego meglio. Ogni stesso giorno? Ogni 30 giorni? No, non c'è problema. Anche se non arriva ogni 30, arriva un mese a 32, un mese a 28, un mese a 26, lì lo definiamo tendenzialmente irregolare, ma non veramente irregolare. Dobbiamo tenerlo d'occhio perché quando l'ovaio non riesce ad avere quella perfetta regolarità, se peggiora è ovvio che poi andiamo nel patologico, però lo possiamo considerare comunque normale. Quindi diciamo, riassumendo, bisogna recarsi immediatamente dal ginecologo se abbiamo assenza totale di ciclo per 3-6 mesi, forse è meglio 3 che 6 perché magari potrebbe nascondere, come lei diceva giustamente, problemi anche molto più gravi di natura sia psicologica che fisica, oppure quando è irregolare, cioè viene prima dei 21 giorni o dopo i 45 giorni, lo fa ovviamente non una tantuma, ma regolarmente, sempre diciamo almeno per 3-6 mesi, questo potremmo dire in sintesi. Per 3 mesi, mettiamo il numero 3, da linea guida sarebbero 6, però effettivamente aspettare 6 mesi e poi magari c'è una problematica sotto rischiamo che peggiora, quindi io consiglio sempre generalmente dopo 3 mesi non aspettare 6. Di solito ci si preoccupa molto delle ragazzine, delle donne giovanissime perché magari sono i primi anni di ciclo mestruale, ma questa irregolarità può sopraggiungere improvvisamente anche a una donna che magari per 40 anni ha avuto sempre il ciclo irregolare? Sì, assolutamente, perché ritorniamo al discorso che le cause possono essere tantissime, quindi a maggior ragione che il ciclo è sempre stato irregolare, ad un certo punto diventa irregolare, bisogna andare a controllare, perché ce lo possiamo aspettare da un ovaio che inizia a svegliarsi. È ovvio che nell'adolescenza c'è questo ovaio che non sa neanche lui quello che deve fare, comincia a svegliare, sì che devo fare, ovulare, sì ma come, ma quando, quindi ci aspettiamo che nei primi 5 anni dal menarca ci possano essere delle irregolarità che comunque vanno gestite se ci sono problematiche, se arrivano ogni 21, se i cicli sono emorragici, perché comunque comportano uno sbalzo ormonale che non fa bene al corpo, vediamo infatti io molto spesso mi ritrovo a curare madre e figlia, perché la madre sta andando in menopausa, la figlia sta in adolescenza, dentro casa, fuochi d'artificio per il nervosismo, perché i nostri ormoni guidano anche il nostro benessere fisico e psichico, la nostra calma, il nostro relax, quando noi abbiamo gli ormoni che non sono ben gestiti, è normale che c'è quella irritabilità, quella cosa, poi capirai, mamma e figlia insieme, i padri se ne scappano e quindi hanno questa fase di accensione e spegnimento con alterazioni che vanno aiutate, perché se io non ho quell'ormone del relax che viene prodotto, magari glielo diamo dall'esterno e ritrovano un benessere, almeno per quelle fasi di passaggio, fino a quando poi non si stabilizza tutto, in un modo o in un altro. Assolutamente, visto che dottoressa Mallozzi ha nominato la coppia madre e figlia, mi è venuta in mente una frase che probabilmente è un luogo comune, adesso insomma vediamo se è un mito o meno da sfatare, che spesso, specialmente un tempo, le madri dicevano alle proprie figlie, quando si trovavano ad avere un'irregolata del ciclo, le madri dicevano non ti preoccupare, oppure cicli molto dolorosi, quando poi affronterai la prima gravidanza, avrai il primo figlio, tutto questo passerà. Ecco, è vero o dobbiamo sfatare un mito che ti portiamo dietro? Allora, sfatiamolo un pochino, nel senso che è possibile che lì dove tu hai un utero molto piccolino, che non è molto elastico, all'arrivo del ciclo, nel suo contrarsi in maniera spasmotica, ti può dare dolore, però anche lì abbiamo soluzioni, quindi insomma magari va comunque visto e va comunque dato qualcosa per aiutare. È vero che nel momento della gravidanza questo utero si ingrandisce, quindi la sua elasticità e la sua maniera di svuotarsi non dà più quei crampi e quei dolori che poteva dare prima. C'è un'altra cosa da considerare, che ci sono anche patologie che danno dolore al ciclo, che vengono curate con la gravidanza, dove la gravidanza è terapeutica, come per esempio la famosa endometriosi. Nell'endometriosi, dove noi già ne abbiamo parlato in precedenza, non rifaccio magari una sintesi, è quando il tessuto che riveste la cavità uterina, che è quello che praticamente l'endometrio che si sfalda durante il ciclo mestruale che esce fuori con il sangue, si viene a trovare in zone dove in teoria non dovrebbe stare e stando per esempio sull'ovaio o dentro la parete dell'utero o sull'intestino o quant'altro ogni mese che mestra il sangue irritativo dà dolori lancinanti ed è una patologia che se non curata aumenta sempre di più. Quindi questa patologia adesso si sanno tante terapie, una volta neanche si sapeva che esisteva e al momento della gravidanza noi abbiamo gli ormoni curativi che la debellano. Quindi è ovvio che se tu avevi l'endometriosi e hai la gravidanza, ecco qui che viene curata naturalmente l'endometriosi. Quindi è vera ma con un piccolo asterisco, diciamo. C'è un motivo e non sempre però la gravidanza può curare, perché se noi per esempio abbiamo un'ovulazione non perfettamente efficace, quindi non abbiamo la produzione giusta di un determinato ormone, abbiamo magari troppo sangue che esce e lì c'è uno sforzo dell'utero a far uscire troppo quantitativo di sangue che dà contrazioni, spasmi e lì come ce l'avevi prima ce l'avrai anche dopo. Oppure ancora, se noi abbiamo dei polipi dentro la cavità uterina, anche lì possiamo avere questi dolori e non è la gravidanza che ce lo cura purtroppo, quindi ci sono tante diverse situazioni che possono perdurare anche dopo la gravidanza. Comunque se avete dolore durante il ciclo fate sempre un controllo, perché che sia una cosa parafisiologica, come dicevo prima, magari solo di un utero che non è molto elastico o a maggior ragione che sia una patologia che necessita cura, le soluzioni ci sono e va sempre accurato perché ci sono patologie che è importante curare dagli inizi, se dovessero esserci, quindi mi raccomando. Per concludere, ritornando sempre a quello che è stato l'argomento che ha dato in là questa conversazione, ci sono dei nemici amici, dei cibi amici o nemici della salute della donna nel periodo della primavera? Nella primavera, intendi? Beh, sicuramente un apporto giusto di verdure e frutta, perché noi sappiamo benissimo che le vitamine sono fondamentali per il benessere corporeo, ma anche della frutta secca, perché contengono molto magnesio, il magnesio è un adattogeno, una stabilizzatore neuronale e quindi ci permette di meno questa somatizzazione dello stress, tra virgolette, da adattamento alle nuove temperature. La frutta secca, non so se lei concorda con me, a volte può essere sicuramente amica della salute, come le diceva, ma anche è un grande nemico perché se ne mangia troppa, nel senso che sazia poco, è molto calorica e quindi pensiamo in quel momento di doverci riempire, magari chi fa lo spuntino con le mandorle, con le noci, quindi qual è la giusta quantità? È la dose che fa il veleno, generalmente dalle 5 alle 10 mandorle, magari non lo utilizziamo come un pranzo perché non ci compenserebbe mai tutta la fame, però come piccolo spuntino sicuramente è molto idoneo. Quindi non superare le 10 mandorle, magari quei pacchettini che vengono già dosati potrebbero essere la soluzione. Sì, anche perché sono una dirà l'altra. Con la frutta secca più che con la frutta fresca è quello proprio di mangiarne in quantità industriali senza rendersene conto. Sì, infatti bisogna portarsi il mini kit dietro così che almeno si mangiano quelle e basta senza poi aver rischio di mangiarne altre. Ovviamente è importante, immagino, anche l'idratazione nel periodo in cui ovviamente ci affacciamo ai primi calori. Quella sempre, i primi calori ancora di più, diciamo verso la primavera dobbiamo averne cura, però non ha quella importanza che poi invece avrà quando si va in estate, quello sì, assolutamente. Perché un'assenza di idratazione, quindi se beviamo davvero poca acqua può influire anche su tutto il funzionamento del nostro apparato riproduttivo, anche sui dolori, sui crampi che possiamo avere. Tutto, 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 tutto influisce. Perché comunque ti comporta un equilibrio, quello viene definito idroelettrolitico errato, quindi anche dei micro elementi che stanno alla base della funzionalità di tante cose e sulla parte uterina della fase di contrattilità. E ritorniamo al discorso che a volte, a parte la funzionalità proprio del funzionamento ovarico, ma anche quei dolori di cui tu parlavi prima sono spesso dovute a queste ipercontrazioni. Infatti io a volte ho pazienti che mi dottoressa, io un mese ho il dolore, un mese non ho il dolore, ma io non capisco. È dovuto anche a questo, noi siamo ciò che mangiamo e il funzionamento del nostro corpo dipende tantissimo da questo, quindi fondamentale l'idratazione e l'alimentazione per il benessere di tutto il corpo e ancora di più per la parte ginecologica. Ovviamente non abbiamo il tempo di parlarne, ma questo diciamo che lo diciamo sempre con qualsiasi specialista, anche l'attività fisica, un minimo di attività fisica rientra in quelli che sono definiti gli stili di vita corretti. Allora io ringrazio la dottoressa Mallozzi per essere stata con noi questa sera. Piacere mio, piacere mio. Una mela al giorno torna tra pochissimo dopo una breve pausa pubblicitaria, vi aspetto.